l'elegantissima carrozza attaccata a una pariglia due morelli splendidi stava aspettando dinanzi alla scalea del palazzo era la fine di giugno verso le cinque e mezza e tra i tetti delle ali che rinchiudevano il cortile d'onore si stendeva un cielo pieno di luce di calore di letizia la contessa di mascarea comparve sulla scalea proprio nel momento in cui suo marito che rincasava stava attraversando l'androne egli si fermò un istante a guardare la moglie e impallidi leggermente ella era bellissima slanciata piena di distinzione col viso di un ovale perfetto un colorito di avorio dorato grandi occhi grigi e capelli neri salì in carrozza senza guardarlo senza neanche mostrare di averlo scorto e con un incesso così squisitamente di razza che gli sentì nuovamente in cuore il morso dell'infame gelosia che da tempo lo divorava ella le si avvicinò salutando andate a fare una passeggiata disse ella lasciò passare due parole attraverso le labbra sdegnose come vedete al parco probabilmente mi permettereste di accompagnarvi la carrozza è vostra senza stupirsi del tono delle risposte egli salì e si sedette a fianco della moglie al parco ordinò la domestica balzò in serpa accanto al cavaliere e i cavalli al solito scalpitarono dondolando il capo come per un saluto sino a che non ebbero svoltato nella strada i due sposi stavano l'uno a fianco dell'altra senza parlare il marito cercava il modo per iniziare la conversazione ma il viso della moglie restava così ostinatamente duro che gliene mancò l'ardire infine egli allungò di soppiatto una mano verso quella inguantata di lei toccandola come per caso ma il gesto della contessa per scostare il braccio fu così vivace e così disgustato da farlo desistere titubante malgrado le sue abitudini di despota autoritario Gabriele mormorò che volete? disse la contessa senza volgere il capo vi trovo adorabile e le hanno rispose conservando il suo atteggiamento di regina irritata stavano risalendo gli champi di sé verso l'arco de trionfo dell'Etoile l'immenso monumento in cima alla lunga strada apriva il suo arco colossale sul cielo rosso pareva che il sole calasse su di esso cospargendolo dall'orizzonte di una polvere di fuoco e la fiumana delle carrozze spruzzate di brillii sugli ottoni sulle argentature e sui cristalli dei finimenti e dei fanali formava una doppia corrente verso il parco e verso la città mia cara Gabriele disse nuovamente il conte di mascherè allora non potendone più egli replicò esasperata lasciatemi stare ve ne prego ora non posso neanche più rimanere sola nella mia carrozza egli finse di non aver sentito e seguitò non siete mai stata così graziosa come oggi la contessa ormai spazientita non trattenne più la collera e replicò fate male ad accorcervene perché vi giuro che non sarò mai più vostra allora egli restò stupefatto e sconvolto la sua abituale violenza riprese il sopravvento e lanciò un che cosa significa che rivelava il più brutale padrone che non l'uomo è innamorato e la ripetì a bassa voce benché i servi non potessero udire tra l'assordante rotolio delle ruote ah che cosa significa che cosa significa finalmente vi riconosco volete che ve lo dica? sì che vi dica tutto? sì tutto quello che ho nel cuore da quando sono vittima del vostro feroce egoismo il conte era diventato rosso per lo stupore e l'irritazione brontolò a denti stretti sì dite pure era un uomo alto di statura largo di spalle con una gran barba rossa un bell'uomo un gentiluomo un uomo di mondo che aveva fama ad essere un perfetto marito e un padre eccellente per la prima volta da quando erano usciti dal palazzo ella si voltò verso di lui fissandolo bene nel viso ah vi dirò qualcosa di molto spiacevole ma sappiate che sono pronta a tutto che sfiderò tutto e che non temo nessuno e voi oggi meno di qualunque altro anche lui la guardava negli occhi di già scosso dalla rabbia siete pazza? borborò no ma non voglio più essere vittima dell'odioso supplizio della maternità che state imponendomi da undici anni voglio finalmente vivere come una signora del mio mondo come ne ho diritto come ne hanno diritto tutte le donne non capisco balbettò il marito impallidendo improvvisamente certo che capite sono ormai tre mesi che ho avuto il mio ultimo bambino e poiché sono ancora assai bella e nonostante i vostri sforzi ben poco sformata secondo quanto voi stesso avete rilevato poco fa incontrandomi all'ingresso di casa vostra giudicate che sia ora di rendermi di nuovo incinta state sragionando no ho trent'anni e sette figli siamo sposati da undici anni e voi contate di continuare a questo modo per altri dieci dopodiché non sarete più geloso non vi permetto di continuare a parlarmi in questo modo rispose il conte afferrandole il braccio e stringendolo e io continuerò sino in fondo sino a che non vi avrò detto tutto ciò che intendevo dirvi e se cercasse di impedirmelo alzerò la voce in modo da farmi sentire dai domestici a cassetta vi ho lasciato salire proprio per questo motivo perché ci sono questi testimoni che vi costringono ad ascoltarmi e a contenervi state a sentire mi siete sempre stato antipatico e ve l'ho sempre mostrato perché non ho mai mentito signore mi avete sposata contro la mia volontà avete costretto i miei senitori che si trovavano in condizioni difficili a darmi a voi che siete ricchissimo mi hanno obbligata facendomi piangere mi avete dunque comperata e dal giorno che sono stata in vostro potere dal giorno che ho cominciato a diventare per voi una compagna disposta ad affezionarmi a dimenticare i vostri modi di intimidazione e di coercizione per ricordarmi soltanto che devo essere una moglie devota ed amarvi quanto più mi fosse possibile voi siete diventato geloso come nessun uomo lo è mai stato geloso come una spia in modo basso, ignobile degradante per voi e insultante per me non erano neanche otto mesi che eravamo sposati e già mi sospettavate di ogni perfidia me lo avete fatto capire che vergogna e poi non potevate impedirmi di essere bella e piacente d'essere giudicata nei salotti e anche nei giornali una delle donne più graziose di Parigi avete cercato che cosa escogitare per allontanare da me l'omaggio della gente e vi è venuta l'abominevole idea di farmi trascorrere la vita in una continua gravidanza sino a disgustare chiunque non negatelo per molto tempo non capì poi indovinai ve ne siete anche vantato con vostra sorella me lo disse perché mi vuol bene e ha avuto schifo della vostra grossolanità di villanzone ah rammentate le nostre lotte le porte sfasciate le serrature forzate a quale esistenza mi avete condannata da undici anni un'esistenza di riproduttrice in una stazione di monta poi appena mi trovavo incinta voi provavate disgusto di me e non vi vedevo più per mesi e mesi venivo mandata in campagna tra il verde in mezzo ai prati a fare il mio piccolo e quando ricomparivo fresca e bella indistruttibile sempre seducente e sempre circondata di omaggi ogni volta sperando che finalmente avrei cominciato a vivere almeno per un po' come una giovane donna ricca che appartiene alla società allora la gelosia vi riprendeva e rincominciavate perseguitarmi con l'odioso e infame desiderio che anche in questo momento accanto a me vi fa soffrire non è desiderio di possedermi non mi sarei mai rifutata a voi ma desiderio di deformarmi per di più è capitata una cosa abominevole e così misteriosa che mi ci è voluto parecchio tempo per capirla la forza di seguire le vostre azioni e dei vostri pensieri mi sono scaltrita vi siete affezionato ai vostri figli per la tranquillità che essi vi hanno procurato durante tutto il tempo che io li ho portati nel ventre l'avversione che avevate per me congiunta agli ignobili sospetti momentaneamente sopiti e alla gioia di vedermi ingrassare hanno formato il vostro affetto per loro quante volte ho sentito in voi questa gioia quante volte l'ho vista nei vostri occhi e l'ho intuita i vostri figli voi li amate come vittorie conseguita non come sangue vostro vittorie su di me sulla mia giovinezza sulla mia bellezza sul mio fascino sulle dichiarazioni che mi venivano rivolte e anche su quelle che non dette venivano disbiliate intorno a me siete fiero dei vostri figli vi pavoneggiate con loro vi portate al Bois de Boulogne in carrozzino scoperto e al Mont Merci sui somarelli vi conducevate alle mattinate teatrali perché la gente vi vedesse in mezzo a loro ed esclamasse che buon padre e lo si dicesse in giro il conte le aveva afferrato il polso con selvaggia brutalità e lo strinse così violentamente che si attacque soffocando il lamento che le straziava il petto voglio bene ai miei figli capite? disse a bassa voce ciò che state dicendo è vergognoso per una madre ma a voi mi appartenete io sono il padrone posso esistere da voi ciò che voglio e quando lo voglio e ho la legge dalla mia parte cercava di schiacciarle le dita nella stretta ditanaglia del suo grosso polso muscoloso ella livida dal dolore cercava inutilmente di ritirare la mano dalla morsa che gliela stritolava ansimava dal dolore e le salivano le lacrime agli occhi vi rendete conto che io sono il padrone e gli disse è il più forte aveva allentato un poco la stretta credete che io sia religiosa e la disse ma sì balbettò lui sorpreso siete sicuro che io creda in dio ma sì che potrei mentire facendovi un giuramento dinanzi a un altare che racchiude il corpo del signore no vorreste accompagnarmi in chiesa a che fare lo saprete e consentite se ci tenete philippe chiamò la contessa alzando la voce il cocchiere piegando un po' il collo senza perdere di vista i cavalli sembrò che voltasse soltanto l'orecchio alla padrona la quale aggiunse andiamo alla chiesa di Saint-Philippe du Houl la carrozza che stava per giungere alla porta del Bois de Boulogne girò verso Parigi marito e moglie non scambiarono più una parola durante il nuovo tragitto quando la carrozza fu dinanzi al tempio la signora di Mascheret d'un balzo fu a terra ed entrò seguita a pochi passi dal conte e l'avanzò senza fermarsi si impresso alla balaustra dell'altar maggiore cadendo in ginocchio accanto a una sedia si nascose il viso tra le mani e pregò pregò a lungo e il conte in piedi dietro di lei si accorse che ella piangeva piangeva silenziosamente come piangono le donne nell'angoscia c'era nel suo corpo una specie di ondulazione che finiva con un leggero singulto represso soffocato tra le dita ma il conte di Mascheret ritenne che la cosa andasse troppo per le lunghe e le toccò una spalla ella si risvegliò come se avesse subito una scottatura rialzandosi fissò il marito negli occhi ecco cosa devo dirvi non ho timore di nulla potrete fare ciò che vorrete se vi parrà mi potrete anche ammazzare uno dei vostri figli non è vostro figlio lo giuro dinanzi a dio che è qui a sentirmi era il solo modo che io avessi per vendicarmi di voi della vostra abominevole tirannia di maschio dei lavori forzati della procreazione ai quali mi avete condannata chi è stato il mio amante non lo saprete mai sospetterete tutti non lo scoprirete mi sono data a lui senza amore senza piacere soltanto per tradirvi e anche lui mi ha reso madre qual è il figlio suo non lo saprete mai ne ho sette cercate questa confessione contavo di farvela più in là tra molto tempo perché non ci si vendica di un uomo tradendolo ma facendoglielo sapere mi avete costretta a dirvelo oggi ho finito vi attraverso la chiesa quasi fuggendo diretta alla porta spalancata sulla strada aspettandosi di sentire dietro di sé il passo rapido dello sposo che aveva affrontato e di afflosciarsi sul pavimento sotto la mazzata del suo pugno non sentì nulla e raggiunse la carrozza vi fu sopra ad un balzo contratta dall'angoscia ansimante di paura a palazzo gridò al cocchiere i cavalli partirono di trotto serrato la contessa di mascherè chiusa nella sua camera stava aspettando l'ora del pranzo come un condannato a morte aspetta il momento dell'esecuzione cosa gli avrebbe fatto egli era tornato a casa despoda iroso pronto ad ogni violenza cosa aveva meditato cosa aveva preparato cosa aveva deciso nessun rumore nel palazzo ella guardava ad ogni istante le lancette dell'orologio a pendolo la cameriera era venuta per la toaletta vespertina poi se n'era andata suonarono le otto e subito dopo vennero picchiati due colpi alla porta la signora contessa è servita disse il maggiordomo affacciandosi il conte è tornato sì signora contessa il conte è già in sala da pranzo ella pensò per un attimo di munirsi di una piccola pistola acquistata poco tempo prima in previsione del dramma che le si stava formando in cuore ma poi riflettè che tutti i suoi figli sarebbero stati presenti e prese soltanto un flaconcino di sali quando entrò nella stanza suo marito stava aspettando in piedi accanto alla sedia si scambiarono un leggero saluto e si sedettero a loro volta i figli presero posto i tre maschietti con il precettore da un marain a destra della madre le tre bambine con la governante inglese la signora Smith erano a sinistra l'ultimo figlio di tre mesi restava in camera con la balia le tre femminucce la maggiore aveva dieci anni erano tutte e tre bionde vestite di celeste con guarnizioni di merletto bianco e parevano tre deliziose bambole la più piccola non aveva tre anni già carine tutte e tre promettevano di diventare belle come la loro madre i tre ragazzi due castani e il maggiore di nove anni di già moretto facevano prevedere uomini vigorosi di alta statura di ampie spalle tutta la famiglia pareva di uno stesso sangue forte e vitale il prete recitò il benedicte come faceva sempre quando non c'erano invitati se si erano estranei i figlioli non comparivano a tavola il pranzo ebbe inizio la contessa turbata come non aveva certo previsto rimaneva con gli occhi bassi mentre il conte esaminava le fisionomie ora dei ragazzi ora delle bambine con sguardi angosciati che passavano dall'uno all'altro ad un tratto posando il calice sulla tavola lo ruppe e l'acqua arrossata macchiò la tovaglia il rumore provocato da quel piccolo incidente fece fare un sobbalzo alla contessa per la prima volta i due si guardarono da quel momento contro la loro stessa volontà nonostante lo spasimo della loro carne e dei loro cuori sconvolti ad ogni incontro degli occhi essi non smisero più di incrociare i loro sguardi come canne di pistole il prete sentiva che c'era un disagio di cui ignorava la causa e cercava di mettere in piedi un po' di conversazione sgranava argomenti di discorso uno dopo l'altro senza che i suoi vani tentativi facessero sbocciare un'idea o nascere una parola la contessa con tratto femminile e obbedendo al proprio istinto di signora per due o tre volte cercò di rispondergli ma in vano non riusciva a trovare le parole nella sua mente sconvolta e la sua voce le faceva quasi paura nel silenzio della grande sala in cui si udivano soltanto i tenui rumori delle posate e dei piatti improvvisamente suo marito sporgendosi avanti disse in questo luogo in mezzo ai vostri figli mi confermate col giuramento la sincerità di quanto mi avete dichiarato poco fa l'odio che le ardeva nelle vene la fece balzare in piedi e rispondendo alla richiesta con la stessa energia con cui sosteneva lo sguardo di lui e salevò le mani la destra sul capo dei ragazzi la sinistra su quelli delle bambine e con voce risoluta sicura piena di fermezza disse sul capo dei miei figli vi giuro di aver detto la verità il conte si alzò e con un gesto di rabbia buttò il tovagliolo sulla tavola e nel voltarsi mandò la sedia contro il muro quindi uscì senza profferire parola allora la contessa con un gran sospiro come chi ha ottenuto la prima vittoria con voce placata disse non fateci caso miei cari papà ha avuto una grossa pena poco fa ne soffre ancora molto ma tra qualche giorno sarà tutto passato poi si mise a discorrere con il prete chiacchierò con la signorina Smith ebbe per ognuno dei figliuoli frasi piene di tenerezza di affetto quelle moine materne che inteneriscono i giovani cuori terminato il pranzo passò nel salone con tutta la casata fece parlare i più grandi raccontò favole ai piccini e quando venne per tutti l'ora di andare a letto li baciò a lungo e tornò sola in camera sua rimasi in attesa perché era certa che gli sarebbe venuto ora che i figli non le erano più accanto si decise a difendere la propria pelle di creatura umana come aveva difeso la propria vita di signora della società nascose nella tasca del vestito la piccola pistola carica che aveva comperato qualche giorno prima le ore passavano le ore suonavano tutti i rumori del palazzo si spensero soltanto le carrozze di piazza protraevano per le strade il loro rotolio indistinto fievole e lontano attraverso i parati dei muri ella attendeva energica e nervosa senza più paura di lui adesso pronta a tutto e quasi trionfante perché aveva trovato per lui un supplizio di ogni istante per tutta la vita la prima luce del giorno si insinuò al di sotto delle frange in fondo alle tende senza che egli si fosse presentato allora ella capì con stupore che non sarebbe venuto chiusa a chiave la porta tirato il paletto di sicurezza che lei stessa aveva fatto applicare finì per andare a letto rimanendo a meditare con gli occhi spalancati senza più capire senza poter indovinare ciò che egli avrebbe fatto la cameriera portandole il tè le consegnò una lettera del marito costui le scriveva che partiva per un viaggio abbastanza lungo e l'avvertiva nel post scriptum che il notaio le avrebbe fornito il denaro necessario per tutte le spese all'opera durante un intervallo di roberto in diavolo in platea due signori in piedi cilindro in capo panciotto abbondantemente aperto sull'asparato bianco luccicante dell'oro e delle pietre dei gemelli guardavano i palchi affollati di signore scollate indiamantate imperlate sbocciate in quella serra luminosa dove la bellezza dei volti lo splendore delle spalle sembravano come una fioritura offerta agli sguardi tra i suoni e l'usio delle voci umane i due amici voltavano le spalle all'orchestra e chiacchierando puntavano i binocoli su tutta quella galleria di eleganze su tutta quella esposizione di grazia vera o falsa di gioielli di lusso di pretese sfoggiata nel giro dell'ampio teatro uno dei due roger de salen disse al compagno bernard grandin guarda com'è sempre bella la contessa di mascare l'altro allora l'altro allora rivolse il binocolo verso un palco di centro una signora dall'aspetto ancora giovanissimo e una sfolgorante bellezza che pareva attirare gli sguardi da ogni punto della sala un pallore con riflessi d'avorio la faceva parere una statua e sui suoi capelli neri come la notte un sottile diademaco sparso di diamanti brillava come una via lattea dopo averla guardata per un momento bernard grandin rispose con tono giocoso di sincera ammirazione eh lo credo che è bella che età può avere adesso aspetta posso dirtela esattamente la conosco sin dall'infanzia l'ho vista esordire in società da signorina e la trenta trenta trentasei anni non è possibile ne sono sicuro ne dimostra venticinque e ha sette figli incredibile sono vivi tutti a sette e lei è una buonissima madre vado qualche volta in casa loro ed è piacevole molto tranquilla e molto per bene e l'ha realizzato il fenomeno della famiglia in seno alla società un bel fatto e non ci sono mai stati chiacchiericci sul suo conto mai e il marito un tipo singolare no sì e no forse tra di loro può esserci stato un piccolo dramma uno di quei piccoli drammi di famiglia di cui si ha il sospetto senza che si possono mai conoscere bene e che tuttavia a un dipresso si indovinano e che cosa non saprei dire adesso Mascheret è un gran gaudente dopo essere stato un perfetto coniuge finché si comportò da buon marito aveva un pessimo carattere ombroso e arcigno da che si è dato alla bella vita è diventato molto indifferente ma si direbbe che abbia una grossa preoccupazione una pena un vero meroditore che lo fa invecchiare rapidamente i due amici filosofarono alquanto sulle pene segrete inconoscibili che dissimiglianze di caratteri o forse antipatie fisiche inavvertite da prima possono far nascere in una famiglia Roger de Salin che aveva sempre il binocolo puntato sulla contessa di Mascheret aggiunse è incredibile che quella donna abbia avuto sette figli sì in undici anni dopodiché a trent'anni ha chiuso il suo periodo di produzione per entrare nel brillante periodo di rappresentanza che non pare prossimo alla fine povere donne perché ricompiangi perché caro mio ma pensa un po' undici anni di gravidanze per una come quella che inferno tutta la giovinezza tutta la bellezza tutta la speranza di successo tutto l'ideale poetico di vita brillante sacrificato all'abominevole legge della riproduzione che riduce una donna normale al livello di una semplice macchina incubatrice chi vuoi farci è la natura sì ma io dico che la natura è la nostra nemica che bisogna continuamente lottare contro la natura perché essa cerca sempre di riportarci alle condizioni di animali quanto c'è di pulito di bello di elegante di ideale sulla terra non è Dio che ce l'ha messo ma l'uomo il cervello umano siamo stati noi a portare nel creato inneggiandovi interpretando ammirando da poeti idealizzando da artisti spiegando da scienziati sbagliando magari ma scoprendo ingegnose ragioni dei fenomeni un po' di grazia di bellezza di fascino sconosciuto e di mistero Dio ha soltanto creato gli esseri grossolani pieni di germi di malattie i quali dopo qualche anno di rigoglio animalesco invecchiano nelle infermità con tutta la laidezza e l'impotenza della decrepitezza umana si direbbe che li abbia fatti soltanto perché si riproducano sozzamente e poi muoiano come gli insetti effimeri delle serate estive ho detto perché si riproducano sozzamente e insisto esiste infatti qualcosa di più ignobile di più ripugnante dell'atto sceno e ridicolo della riproduzione degli esseri contro il quale tutti gli animi delicati sono e saranno eternamente in rivolta dato che tutti gli organi inventati dal creatore economo e malevolo servono a due scopi perché non ne ha scelti altri che non fossero sudici e insozzati ai quali affidare questa sacra missione la più nobile e la più saltante delle funzioni umane la bocca che nutre il corpo con alimenti materiali diffonde altresì la parola e il pensiero la carne si ristora per il suo tramite e al tempo stesso comunica le idee il naso che dà ai polmoni l'aria vitale adduce al cervello tutti i profumi del mondo l'odore dei fiori dei boschi degli alberi del mare l'orecchio che ci consente di comunicare con i nostri simili c'è anche dato modo di inventare la musica di creare i sogni e la felicità l'infinito e anche il godimento fisico dei suoni ma si direbbe che il creatore sorgnone e cinico abbia voluto proibire all'uomo l'incontro con la donna per rivalsa l'uomo ha inventato l'amore che non è poi una cattiva risposta al dio beffardo e l'ha tanto bene ornato di poesia letteraria che la donna dimentica spesso a quali contatti si trova costretta quelli fra di noi che non riescono ad ingannare se stessi esaltandosi hanno inventato il vizio e raffinato le orge che è un altro modo di burlarsi di dio e di rendere omaggio un impudico omaggio alla bellezza ma le persone comuni fanno figli come animali accoppiati legalmente guarda quella donna non è forse un abominio pensare che un tale gioiello una perla nata per essere bella ammirata festeggiata adorata abbia speso undici anni della sua vita per dare eredie al conte di mascare c'è molto di vero nelle tue parole ma pochi ti capirebbero rispose Bernard Grandin ridendo Salens si infervorava sai come io concepisco dio aggiunse come un mostruoso organo creatore a noi sconosciuto che spanda negli spazi miliardi di mondi come un unico pesce seminerebbe le uova nel mare crea perché è la sua funzione di dio ma ignora ciò che fa stupidamente prolifico inconscio delle combinazioni di ogni sorta prodotte dal suo germe disseminato il pensiero umano è un lieve fortunato accidente dovuto al caso delle fecondazioni un accidente locale passeggero imprevisto destinato a scomparire con la terra e a rifarsi qui magari o altrove sempre uguale o differente assieme alle nuove ricombinazioni degli eterni ricominciamenti dobbiamo al piccolo accidente dell'intelligenza se non ci troviamo bene in un ambiente che non è fatto per noi che non è stato preparato per accoglierci ricoverare nutrire e soddisfare gli esseri pensanti e gli dobbiamo anche di dover lottare senza posa quando siamo veramente civili e raffinati contro ciò che viene chiamato i disegni della provvidenza Grandin che l'ascoltava attentamente conoscendo da sempre le brillanti risorse della sua fantasia gli domandò così tu credi che il pensiero umano sia un prodotto spontaneo dai ciechi parti divini per pacco una funzione fortuita dei centri nervosi del nostro cervello simile alle reazioni chimiche imprevedibili in nuovi miscugli simile anche a una produzione di elettricità con sfregamenti o vicinanze insospettate simile a tutti quei fenomeni generati dall'infinito e fecondo rigoglio della materia che vive e mio caro la prova è lampante per chiunque voglia guardare attorno a sé se il pensiero umano voluto da un creatore cosciente avesse dovuto essere quale poi è diventato tanto a differenza dal pensiero e dalla rassegnazione degli animali e così esigente ricercatore tormentato credi che il mondo creato per accogliere l'essere che oggi noi siamo sarebbe lo scomodo zardino zoologico orto da inserata il campo silvestre rozzoso e sferico nel quale la nostra provvidenza ci aveva destinati a vivere i nudi nelle grotte o sotto gli alberi a nutrirci di animali massacrati nostri fratelli o di legumi crudi spuntati sotto il sole e le piogge basta un momento di riflessione per accorgerci che la terra non è fatta per esseri come noi il pensiero sbocciato e sviluppatosi per un miracolo nervoso delle cellule del capo per impotente ignorante e incerto che sia e magari sempre sarà rende noi intellettuali eterni e miserevoli esiliati su questa terra contemplata questa terra quale dio la data a quelli che l'abitano non è palesemente e unicamente sistemata e arborata per gli animali che cosa c'è per noi niente e per gli animali tutto caverne alberi foglie sorgenti rifugi alimenti e bevande per cui gente difficile come me non ci si troverà mai bene soltanto quelli che si approssimano alle bestie possono essere contenti e soddisfatti ma gli altri quelli che hanno sensibilità i poeti i sognatori i pensatori gli inquieti disgraziati mangio cavoli e carote per dio cipolle rape e ravanelli perché sono stato costretto ad abituarmici persino a prendervi gusto e perché non c'è altro ma sono alimento da conigli e da capre come l'erba e il trifoglio lo sono per i cavalli e le vacche quando in un campo vedo le spighe di grano maturo non ho alcun dubbio che siano spuntate per il becco dei passeri e delle allodole certo non per la mia bocca perciò mangiando il pane derubo gli uccelli come derubo la donnola e la volpe quando mangio una gallina la quaglia il piccione e la pernice non sono forse le naturali prede dello sparviero come la pecore il capretto e il bue quelle dei grossi carnivori piuttosto che carni da ingrassare per servircele assortite insieme a tartuffi che i maiali avrebbero dissotterrato appositamente per noi mio caro qua giù gli animali non hanno che da lasciarsi vivere sono in casa loro alloggiati e nutriti non hanno che da brucare o cacciare e mangiarsi l'un l'altro secondo il loro istinto visto che Dio non ha previsto la dolcezza e i pacifici costumi ma ha previsto soltanto la morte degli esseri accaniti a distruggersi e a divorarsi ma noi se ne è voluto di lavoro sforzi pazienza inventiva immaginativa industriosità talento e genialità per rendere alla meglio abitabile questo nostro suolo di radici e di pietre pensa a quanto abbiamo fatto nonostante la natura contro la natura per sistemarci in modo appena mediocre appena pulito appena comodo appena elegante e non ancora degno di noi e quanto più siamo civili intelligenti raffinati tanto più ci tocca vincere e dominare l'istinto animale che rappresenta in noi la volontà di Dio pensa che abbiamo dovuto inventare la civilizzazione che comprende tante cose ma tante tante e di ogni specie dai calzini al telefono pensa a tutto ciò che vede ogni giorno a tutto ciò che serve e a tutte le nostre necessità per alleviare la nostra condizione di bestie abbiamo scoperto e fabbricato ogni cosa cominciando dalle case e poi alimenti squisiti dolciumi bibite liquori tessuti vestiti letti carrozze ferrovie macchine innumerevoli per di più abbiamo inventato le scienze e le arti la scrittura e i versi sì abbiamo creato le arti la poesia la musica la pittura e tutti gli ideali provengono da noi e anche tutti gli abbellimenti della vista i vestiti delle donne e il talento degli uomini che hanno finito per addornare ai nostri occhi e renderla meno nuda meno monotona e meno dura la nostra esistenza di semplici riproduttori per la quale soltanto la provvidenza ci aveva animati guarda questo teatro non ci vedi un mondo umano creato da noi e non previsto dai destini eterni ignorato da essi comprensibile soltanto il nostro spirito una graziosa distrazione sensuale intelligente inventata unicamente da e per il piccolo animaletto insoddisfatto e inquieto che siamo noi considera quella signora la contessa dio l'aveva fatta perché vivesse in una grotta ignuda avvolta in pelli di animali non è meglio così come ora a proposito si sa perché mai il suo bestione di marito che ha accanto a sé una simile compagna e soprattutto dopo essere stato così volgare da renderla madre sette volte l'abbia piantata tutt'un tratto percorrere dietro le donnine grandin rispose ah mio caro probabilmente l'unico motivo deve essere proprio quello deve aver finito per trovare che gli costava troppo caro dormire sempre nel suo letto per economia domestica è giunto agli stessi principi che tu proclami da filosofo si dirono i tre colpi per l'inizio dell'ultimo atto i due amici si rigirarono si tolzero il cappello e si sedettero nella carrozza che li raccompagnava a casa dopo lo spettacolo all'operà il conto e la contessa di mascare seduti a fianco non si dicevano una parola ma ecco che il marito improvvisamente si rivolse alla moglie Gabriele che volete non trovate che ormai ha durato abbastanza che cosa l'abomenevole supplizio al quale mi avete condannato da sei anni a questa parte che volete mai non posso farci nulla insomma ditemi qual è mai ma pensate che io non posso più guardare i miei figli vedermeli intorno senza sentire il morso di quel dubbio ditemi qual è e vi giuro che vi perdonerò che tratterò lui come gli altri non ne ho il diritto non capite che non ne posso più di questa vista che quel pensiero mi rode e che quella domanda mi si pone continuamente e ogni volta che guardo i miei figli dunque avete sofferto molto e la chiese spaventosamente altrimenti non avrei potuto sopportare l'orrore di vivere accanto a voi e l'orrore anche più forte di sentire di sapere che tra i miei figli venne uno non mio che non riesco ad indovinare e che mi impedisce di amare gli altri così che tornò a ripetere lei avete proprio molto sofferto se vi dico che ogni giorno per me è un insopportabile supplizio rispose il conte con voce contenuta e dolorosa se no se non li amassi sarai forse tornato avrei abitato la vostra casa accanto a voi e accanto a loro ah con me vi siete comportata in modo atroce le sole tenerezze del mio cuore sono per i miei figli lo sapete pure per loro sono un padre dei vecchi tempi come per voi sono stato il marito delle famiglie di una volta perché io sono un istintivo un uomo della natura un uomo dei tempi passati sì un uomo dei tempi passati sì lo ammetto mi avete reso ciecamente geloso perché voi siete una donna di altra specie di un'altra anima con altre aspirazioni ah ciò che mi avete detto non lo dimenticherò mai d'altronde dopo di allora non mi sono più curato di voi ma vi ho ammazzata perché non avrei più avuto modo su questa terra di scoprire quale dei vostri figli non sia anche mio ho aspettato ma ho sofferto più di quanto possiate supporre perché non posso più amarli salvo forse i primi due non oso più guardarli chiamarli accarezzarli non posso più prenderne uno sulle ginocchia senza chiedermi sarà questo con voi mi sono comportato correttamente e sono anche stato buono e compiacente in questi sei anni ditemi la verità e vi giuro che non vi farò alcun male nell'oscurità della carrozza gli parve che ella fosse commossa e sentiva che avrebbe finalmente parlato vi prego disse il marito vi scongiuro e la morborò forse sono stata più colpevole di quanto non crediate ma non potevo più sopportare quell'odiosa vita di continue gravidanze avevo un solo modo per allontanarvi dal mio letto ho mentito dinanzi a dio e ho mentito con la mano alzata sul capo dei miei figli non vi ho mai tradito il conte le afferrò il braccio nell'ombra stringendolo come in quel terribile giorno della passeggiata al parco e balbettò ma è proprio vero è vero ma egli sconvolto dall'angoscia gemette ricadrò in altri dubbi senza fine quando mi avete mentito allora o adesso come credervi ora come aver fede in una donna dopo di ciò non saprò mai più a cosa credere avrei preferito che mi aveste detto Ejac o Ejan la carrozza entrò nel cortile del palazzo quando si fu fermata davanti alla scalea il conte ne discese per primo e come sempre offerse il braccio alla moglie per salire i gradini giunti al primo piano e gli disse posso ancora parlarvi un momento e la rispose volentieri entrarono in un salottino un domestico e quanto stupito venne ad accendere i candelabri appena furono soli il conte soggiunse come sapere la verità le ho supplicata cento volte di parlare e siete sempre rimasta muta impenetrabile inflessibile inesorabile e stasera mi dite di aver mentito avete potuto lasciarmi credere una tal cosa per sei anni no e adesso che mentite non so per quale motivo forse perché avete pietà di me e la rispose in tono sincero e convinto se non vi avessi mentito allora in questi sei anni avrei avuto altri quattro figli parla così una madre esclamò il marito non mi sento per nulla madre di figli che non sono mai nati basta di essere la madre di quelli che ho e di amarli con tutto il mio cuore sono siamo donne di un mondo civile signore non siamo più e ci rifiutiamo di essere semplici femmine che ripopolano la terra si alzò ed il conte le prese le mani una parola una parola sola gabriel mi avete detto la verità ve l'ho detta non vi ho mai tradito egli la guardò in viso così bella con gli occhi grigi come cieli freddi nella cupa capigliatura nella notte opaca dei suoi capelli neri brillava il diademaco sparso di diamanti simile a una via lattea egli sentì allora l'improvviso sentì come per una specie di intuizione che quella creatura non era soltanto più la donna destinata a perpetuare una razza ma il prodotto bizzarro e misterioso di tutti i nostri complessi desideri accumulatisi lungo i secoli sviati dal loro primitivo e divino scopo verso una bellezza mistica intravista e irraggiungibile sono così alcune che fioriscono soltanto per i nostri sogni ad orne di tutto quanto la civiltà ha inventato di poesia di lusso ideale di fascino estetico per la donna per la statua di carne che avviva la febbre dei sensi come gli appetiti immateriali il marito rimaneva in piedi dinanzi a lei stupefatto della sua tardiva e oscura scoperta confusamente legata alla causa della sua antica gelosia e rendendoci conto a malapena di tutto vi credo disse infine sento che adesso non mi mentite mentre allora mi era sempre sembrato di non sentirvi sincera egli le porse la mano amici dunque egli baciò la mano che gli veniva tesa e aggiunse siamo amici grazie gabriel egli uscì guardandola ancora meravigliandosi che fosse ancora così bella e sentendo nascere in sé una strana commozione forse più temibile dell'antico e semplice amore grazie a tutti 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 grazie a tutti